Visto che molti saranno qui tra qualche ora per il concerto, per un'Europa sostenibile, a me tocca delle conclusioni. Sarò estremamente breve perché la giornata è stata molto intensa ma credo anche molto fruttuosa, anche per le migliaia di persone che ci hanno seguito via Facebook, via streaming e via Twitter. Io vorrei richiamare cinque punti che oggi sono emersi e che poi saranno anche parte delle conclusioni che presenteremo il 6 giugno alle istituzioni italiane in occasione dell'evento finale che si terrà come ogni anno al Parlamento. Il primo punto riguarda quello che abbiamo ascoltato dal Presidente del Consiglio e torno alla sfida che lui ha menzionato con quella frase che ho citato prima e cioè il tema di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni e compatibilmente con questo quello delle future generazioni. Lo dico perché è un vero e proprio dilemma politico perché come sappiamo le future generazioni non votano e dunque c'è una asimmetria di potere ma quello che vediamo oggi attraverso gli scioperi climatici e appunto il secondo sarà questa settimana e che le nuove generazioni vogliono far sentire la loro voce. In Italia, secondo un recente sondaggio, l'80% dei neo-diciotenni, quindi di chi voterà per la prima volta alle elezioni europee, ha intenzione di votare. E questo è un segnale secondo me estremamente positivo. E allora la domanda che non posso non porvi perché è una domanda che mi frulla per la testa da un paio di mesi, proprio da che sono iniziati gli scioperi climatici. Noi in Europa parliamo sempre del 1968 perché nel 68 c'è stato il maggio francese e tante altre cose ma in realtà il cambiamento era nato negli anni 62-63 nelle università americane, nelle università britanniche. Insomma, il movimento era partito prima che poi si manifestasse con quella forza anche di cambiamento di paradigma ideologico che poi è avvenuto alla fine degli anni 60. La vera domanda che abbiamo davanti dunque è quello a cui stiamo assistendo è qualcosa di simile a quello che è avvenuto nei primi anni 60 o sarà un fuoco di paglia? Quando Greta è venuta in Italia e abbiamo avuto modo di incontrarci in un evento al Senato uno dei commenti che sono usciti da un ex sottosegretario di un governo di centrodestra è stato ok, il problema del cambiamento climatico esiste ma non vorrete dirmi adesso che gli adulti e gli anziani di oggi devono pagare per l'aggiustamento, vero? ecco, questo è il tema che credo abbiamo davanti è il tema che ha attraversato un po' tutti gli interventi oggi soprattutto in questa tavola rotonda finale ma l'abbiamo sentito sul tema della finanza l'abbiamo sentito sul tema degli investimenti per la transizione energetica cioè noi adulti abbiamo un compito unico di dar voce non solo a chi è più giovane non solo delle nuove generazioni ma di chi, e quindi tutti noi hanno sottoscritto l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile a settembre del 2015 eppure c'è una paura terribile del cambiamento ed è una paura che ha varie motivazioni e allora quello che mi porto la prima cosa che mi porto via da questa giornata è che abbiamo sentito tante voci diverse che ci dicono non abbiate paura perché se avete paura non vi preparerete e i costi della non preparazione saranno molto più alti di quelli della transizione il governatore Viscoe questo è il secondo punto che vorrei sottolineare e lo ringrazio ancora per essere venuto oggi come voi forse sapete i governatori della Banca d'Italia hanno una lunga tradizione che oggi è stata in qualche modo infranta cioè non parlano in pubblico a ridosso delle considerazioni finali del governatore che appunto verranno svolte a fine maggio il 31 maggio io gli sono molto grato non solo per aver infranto diciamo così questa regola ma per quello che ha detto perché credo che la relazione di Viscoe oggi sia un cambiamento importante la prima volta che un governatore della Banca d'Italia parla delle cose di cui abbiamo sentito parlare e parla nei termini in cui ha parlato e conoscendo bene l'attenzione che i governatori hanno nel parlare perché sanno che ogni loro parola può determinare reazioni anche nei mercati credo che il messaggio che Viscoe oggi ci ha dato sia fondamentale, sia duplice primo ha confermato che il pubblico è una parte delle imprese è pronta a fare il salto anzi sta cercando prodotti che non trova sul mercato e il secondo passaggio molto importante per quello che sta avvenendo anche come discussione in altre banche centrali e che si riconosce che non solo per le questioni finanziarie ma anche per le questioni climatiche le questioni energetiche i mercati non stanno segnalando le cose giuste e quindi non segnalano il problema della sostenibilità lo ha detto con parole chiarissime e questo obbliga per fortuna i regolatori e i banchieri centrali a segnalare al mercato attraverso vari strumenti che questo cambio è ineludibile e vi assicuro conoscendo un po' queste cose che non tutte le banche centrali sono pronte a fare quello che la banca centrale italiana ha detto l'altro giorno e cioè di investire secondo i criteri ISG questa è una rivoluzione è una rivoluzione importante e come ASVIS credo siamo stati i primi a dare questa notizia che era passata tanto per cambiare nella disattenzione dei media classici e queste rivoluzioni sono significative perché fanno capire che tutti, ormai tutti, quelli che studiano quelli che fanno analisi sono convinti non solo dell'ineluttabilità del cambiamento ma dell'urgenza del cambiamento la terza cosa che mi porto via da questa giornata è l'idea espressa da molti speaker diceva bene ma li avete scelti voi quindi lo sapevate che cosa sarebbe stato detto che la sfida di cui parliamo è la sfida che o farà la fortuna dell'Europa o farà la sua distruzione le parole che abbiamo sentito in termini positivi cioè l'agenda 2030 è una straordinaria opportunità e così via avevano tutte però un retrogusto amaro cioè la consapevolezza che se l'Europa non fa questo salto la sua sopravvivenza è assolutamente a rischio anzi le forze che vediamo al di là di come le vogliamo catalogare io preferisco chiamarle le forze retrotopiste come dice Bauman la retrotopia cioè l'utopia di tornare indietro quindi lasciamo stare altre categorie ecco questo è un rischio straordinario ed è un rischio che speriamo di essere capaci ognuno nel proprio ruolo di trasmettere ai nuovi eletti ai nuovi commissari alla nuova Commissione Europea e il quarto punto che vorrei condividere con voi è che dai segnali che abbiamo raccolto anche oggi di preoccupazione questa partita non è affatto scontata cioè ci sono tante persone che non pensano nei termini di cui abbiamo parlato adesso ci sono molte persone che pensano che ancora quello di cui stiamo parlando di quello di cui abbiamo parlato oggi possano essere questi problemi possono essere risolti con le classiche ricette e allora ci dividiamo tra più spesa pubblica meno spesa pubblica tra deficit meno deficit tra quando al di là del fatto che la stabilità finanziaria è importante c'è un dato che emerge da tutti le analisi e cioè nelle imprese negli stati sembrano in grado di fare investimenti per il futuro le imprese addirittura hanno una posizione creditoria netta cioè non avrebbero neanche più bisogno dei crediti complessivamente vuol dire che c'è un sotto investimento straordinario ma vuoi vedere che questo sotto investimento è proprio il frutto della paura del futuro e che quindi quello che vediamo non è la causa ma è l'effetto di una carenza di futuro dobbiamo riflettere su questi aspetti perché appunto non possiamo essere naif andando in giro a Bruxelles o a Strasburgo dicendo l'agenda 2030 è bellissima non è che necessariamente la gente salterà su questo nuovo paradigma e quindi dobbiamo insistere come società civile come governi e ringrazio veramente i rappresentanti di alcuni governi che si sono impegnati maggiormente nei mesi scorsi e so continueranno a impegnarsi per far capire alle leadership europee che questa è una questione non solo di vita o di morte ma è una bellissima avventura e questo è il quinto punto che mi porto abbiamo dato abbiamo ascoltato alcuni giovani oggi soltanto un piccolo campione dei tanti che si stanno impegnando in tutta Europa su queste tematiche e non semplicemente scioperando il venerdì ma nelle associazioni nelle associazioni studentesche nelle università nella società civile e anche nelle società in cui lavorano recentemente qualcuno mi ha detto beh noi ormai cominciamo ad avere problemi a reclutare certi giovani perché quando i giovani ci dicono ma voi cosa state facendo per l'ambiente voi che politica avete per il gender balance e noi siamo esitanti rispondono va bene grazie vado da un'altra parte chiaramente stiamo parlando delle persone più qualificate ma se voi oggi diceste a un giovane non ti diamo un pc per lavorare direbbero insomma non se ne parla ecco i giovani che abbiamo ascoltato oggi non erano semplicemente come qualcuno ha accusato i giovani che fanno sciopero persone che non avevano idee ma ci hanno mostrato come certi problemi possano essere visti da un'angolazione radicalmente nuova diversa con grande concretezza questo è un punto importante ASVIS in questo senso cercherà di valorizzare ancora di più questa componente così importante della nostra società tantissimi degli eventi di questo festival sono organizzati nelle università con le università dagli studenti ma ancora di più vogliamo provare a dare voce a queste straordinarie energie e non soltanto sulle idee ma sulle aspirazioni io vorrei ringraziare veramente Irene Can sulle sue parole sul tema dei valori e questo è se volete l'insegnamento che in qualche modo mi porto a casa oggi abbiamo scelto di fare questo evento a cinque giorni dalle lezioni non per disattenzione ci eravamo domandati ma dobbiamo spostare le date perché le lezioni e poi abbiamo detto no per varie ragioni ma una di queste era quella proprio di dibattere di che tipo di Europa vogliamo e di nuovo forse siamo un campione non rappresentativo di tutta la società ma quello che è emerso da tutti gli interventi direi non è semplicemente lo slogan sia l'Europa ma un'Europa diversa sia l'Europa sia l'Europa perché sono i valori che ci hanno consentito di costruire un continente di pace sia l'Europa che consente di produrre quei risultati che abbiamo visto stamattina sia l'Europa per quell'articolo del trattato che ha anticipato l'agenda 2030 naturalmente tutti abbiamo le nostre opinioni le nostre criticità le nostre proposte e noi alla fine di questo festival alla fine di questa carrellata di 800 eventi abbiamo scelto di tornare proprio nell'ultimo giorno alla Camera dei Deputati a riparlare di Europa provando a coinvolgere in particolare le neo elette al Parlamento europeo perché crediamo da questo punto di vista che come nei consigli di amministrazione la presenza delle donne si vede fa la differenza rispetto anche alle politiche di sostenibilità chiederemo alle neo elette al Parlamento europeo e speriamo siano tante di dirci la loro su come porteranno non solo una visione di equità e di sostenibilità ma anche una visione diversa da quella di cui normalmente siamo abituati per cui appuntamento non solo a stasera chi verrà al concerto ai tanti altri eventi ma anche al 6 giugno quando completeremo questa carrellata dicendo come la pensiamo grazie ancora per aver partecipato oggi io vorrei ringraziare l'auditorium vorrei ringraziare lo straordinario team dell'ASVIS che in nottate sabati e domeniche ha lavorato su tutto questo mi portano un dato finale e cioè oggi siamo stati in qualche modo seguiti da 36.000 persone utenti singoli senza contare gli utenti dei siti di Repubblica e di Ansa dove lo streaming di questa conferenza è stato proiettato grazie ancora e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti